Questa immagine la dice lunga sulla condizione dell'uomo, la solitudine, il vuoto, i vuoti che abbiamo, siamo pieni di vuoti. Poi arriva la malinconia, la tristezza, la depressione, la frustrazione e poi arrivano i farmaci, i psicofarmaci che ammazzano letteralmente, non prendeteli mai. Non ho visto che cosa è successo a un mio amico, non sono stato capace di dargli una mano, a strappargli via dalla bocca e purtroppo ha fatto il grande salto in tutti i sensi. Sono Gianni che, quella grande anima, ha lasciato questo pianeta. Perché abbiamo questi vuoti? Mi piace di leggere ogni tanto le cazzate, le puttanate che sento dire in giro da psicologi e via discorrendo che sono più complessati della gente che vorrebbero aiutare. Non capiscono che l'uomo, fintanto che non ritornerà alla natura letteralmente e non sarà di nuovo un pezzo del puzzle all'interno del puzzle, continuerà a soffrire di queste patologie. E come singolo e come collettività. Qual è il problema? E non c'è niente che possa eliminare questo problema, tutti lo sono in un modo o nell'altro. Anche quelle famose celebrità che sono piene di soldi, stradicchia e possono tutto e fanno tutto, devono continuamente fare qualcosa e distrarsi. Perché in un momento di silenzio cadrebbero in un vuoto e nei vuoti che hanno dentro, talmente terrificanti che li porterebbe probabilmente al suicidio. E ne abbiamo visti, no? Di questi personaggi, guardate pure Robin Williams e tanti altri che fanno ricorso a droghe, nonostante dieci hanno quella vita. Ma come? L'hanno tutto, hanno la ricchezza, la fama, la posizione. Che cosa gli manca? Gli manca la vita stessa, gli manca quello che manca a tutto noi, l'inserimento all'interno del gruppo. E la solitudine porta l'uomo ad accumulare cose nel tentativo di riempire questi vuoti. Ma questi vuoti non si riempono perché i vuoti non sono al di fuori, negli scaffali, nel portafogli, nella collezione di figurine che abbiamo. Sono dentro di noi perché sentiamo qualcosa e non riusciamo a processarlo perché gli istinti sono stati sopiti e soffocati, non distrutti, è impossibile, dalle sovrastrutture. Quindi ecco fatto che cerchiamo di riempire questi vuoti con cose artificiali e più lo facciamo con queste cose artificiali e più finiamo nella disgrazia della depressione e finiamo nella solitudine e finiamo veramente male, ad accorciarci letteralmente la vita, squilibrando anche gli ormoni. Ma la soluzione è davvero facile, è alla portata di tutti, non degli psicologi e dei professionisti che non capiscono un cazzo, l'ho spiegato tante volte e lo spiegherò nei seminari live bellissimo. C'è solo un modo, ritornare alla società e alla vita naturale, alla tribù, al gruppo, che è costantemente e perennemente insieme, vive insieme, fa le cose insieme, ogni membro del gruppo ha anche la sua parte riservata quando vuole ritirarsi, ma non è bisogno di cercarsi gli amici online, fake, o andare a drogarsi nelle discoteche con l'alcol, col caffè, con le altre droghe o con i cibi sbagliati. No, non ha più bisogno di questo, non ha più bisogno di viaggiare qui e lì a destra e a sinistra per cercare cosa che non troverà mai, se non forse per uno, due, tre o quattro, cinque minuti. Avete visto come tutto svanisce e tutto sparisce quando c'è con la famosa comitiva che una volta c'erano? Perché c'è il gruppo, c'è la tribù, c'è quello che madre natura è inteso per l'uomo, la sua grandezza, la grandezza dell'umanità e la grandezza della tribù alla quale deve tenerci la famosa empatia, le famiglie allargate, solo là si crea empatia, tutto il resto è una stronzata, infatti non ho avuto a che discutere, è stato facile smascherare, a parole sono tutti empatici, tutti empatici, tutti, a parole, ma a fatti zero. Infatti con una persona che ho potuto parlarci si parlava del fatto dell'umanità, ho detto che l'umanità è finita, non c'è più, addio, da quando sono finite le tribù è lei che ribatteva, no, non è vero, c'è ancora un po' d'umanità nel mondo, ho detto guarda c'è ragione, prenditi una famiglia di profughi ucraini e mantienili tu. Siamo stati diversi minuti a parlare di questa cosa e non ha detto sì, ok, vado, me la prendo e la metto dentro casa, ha trovato solo scuse, gli ho detto, hai visto, te l'ho dimostrato, che l'umanità non esiste più, se fossi stata umana e empatica li avresti presi senza fare neanche mezza domanda al sottoscritto, ti ho dimostrato e ti ho dato l'opportunità di dimostrare la tua empatia verso gli altri, io l'ho detto, non me ne frega praticamente una beata minchia di prendermi dei profughi e degli altri dentro casa, perché non fanno parte del mio gruppo e della mia tribù e preferirei ovviamente tenere del mio gruppo e della mia tribù. Non è cattività, è come funziona il cervello. Ad un certo punto, a determinate distanze sociali, a determinate distanze fisiche, a determinate ovviamente tipo di categorie, si passa dall'uomo allo stereotipo, quindi alla categoria, quello è dottore, quello è medico, quello è ucraino, che non è vero, quello là è un essere umano che abita in quella zona geografica, quello è musulmano, quello è ebreo, quello qua, quindi si è passato dal concreto all'astratto. Semplicemente aumentando la distanza, sia fisica, sia sociale, e della tribù. Pertanto io posso darvi il più grande consiglio, cosa che non do mai al mondo, lasciate perdere quei cazzoni o tutti quei famosi metodi, come essere felici, come ritrovare la felicità, come riempire i vuoti. È impossibile, perché questi parlano ancora una volta di cose esterne e materiali, non parlano di ciò che è concreto, ciò che è reale, la tribù. Senza la tribù quei vuoti non si riempiono, si farà sempre una vita di eccessi, nel tentativo di coprire quei vuoti, come facendo, facendo, qua, lì, adesso non devo stare fermo, devo leggere, devo scattare la musica, devo andare, relax, non ci avete mai visto i gruppi dei gorilla, bonobo, scimpanse, guardo soprattutto, ovviamente, i nostri primati relativi, o anche gli altri animali, calmi, tranquilli, rilassati, non devono pensare, non devono leggere, stanno col proprio gruppo, giocano, cercano il proprio cibo, migliorano la loro vita come possono, ok? E noi potremmo fare altrettanto. E è molto, molto facile. Allora risolveremo tutti i problemi di psicologia, tutti i problemi di droghe, tutti i problemi di solitudine, di psicologi, quando hanno capito una beata minchia. Il problema è molto più grande, è anche molto più piccolo da risolvere. Allora sì che potremmo ritornare alla vita vera, allora sì che potremmo ritornare alla divinità uomo, allora sì che questi tremerebbero davvero. Ma finché intanto cercheremo soltanto di sostituire un sistema con un altro sistema che è uguale al primo, soltanto con una veste differente, bene, faremo molta poca di strada. Grazie a tutti.